nino d'angelo si è raccontato a verissimo la puntata andrà in onda domani ma è stata già registrata e per questo è stata resa nota un'anteprima della sua intervista silvia toffanin ha toccato dei punti molto importanti della vita del cantante che ha ricordato un periodo non facile sotto diversi punti di vista la vicenda è rimasta privata per tantissimi anni risale infatti al momento in cui nino d'angelo ha lasciato napoli più di 30 anni fa lui lo ha raccontato invece solo un mese e mezzo fa ed è tornato sull'argomento a verissimo l'addio a napoli è uno dei tasti più dolenti per lui come ogni napoletano infatti anche nino è legatissimo alla sua città e per questo non avrebbe mai voluto separarsi dal luogo in cui è nato e a cui sente di appartenere un'appartenenza che non è svanita sebbene si sia trasferito a roma una scelta che è stato costretto a fare perché ha avvertito la brutta sensazione che la sua famiglia fosse in pericolo una ferita per lui che si è sentito costretto a dover a lui non avrebbe voluto ma sua moglie non era serena a napoli e quindi ha consentito nino d'angelo a verissimo ha parlato degli spari contro casa sua quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di napoli che per fortuna è una piccola parte è stato il momento più brutto della mia vita parentesi quadra aperta parentesi quadra hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi è stata un'estorsione una cosa vomitevole più che spaventato mi sono offeso perché non avevo preso niente a nessuno e ho sempre aiutato chi aveva bisogno